con sommo dispiacere dei miei detrattori oggi chiamati internazionalmente haters l'esterofilia ha sempre regnato sovrana e in questo libro vengono fra l'altro annotati un libro comunque meraviglioso mi è stato donato in maniera amorosa ecco quasi soltanto film di matrice statunitense coproduzione con gli USA, United States una domanda che mi ha sempre ossessionato in passato ha fatto sì che mi oscurassi, mi rattristassi, mi malinconissi e il mio talento di si passi è tu come ti guadagni da vivere io vivo gioendo, soffrendo, soprattutto vivendo, esperendo esperendo e captando il mio dentro se gli altri non riescono a percepirmi così essendo, lo evidenzio ancora, lo rimarco, solipsisti, cioè ad altri del mondo la loro immagine e somiglianza dicendo a me che io credo di essere al centro dell'universo invece sono loro che accentrano tutto secondo quella visione abbastanza parziale, limitata dettata, diciamo così, in maniera metaforica dai pregiudizi e dal loro capire, carpire, introiettare e vedere il mondo e il prossimo secondo la limitatezza del loro stesso sguardo malato di pochezza non sanno ampliare i propri orizzonti espandere le loro visioni io sono sempre stato un principe magnifico, non lo so immaginifico, sicuramente inventivo, creativo e la connessione è saltata sto realizzando questo video tramite cellulare lo inserirò su youtube poi annoterò per l'appunto tutto come consuetudine come si confà il mio perfezionismo cubrichiano a cubrico sempre preferito scorsese comunque più pregno di pathos più viscerale soprattutto all'inizio più eroso il suo cinema rispetto a questo misantropo un po' odioso S.Y. Schatt sopravvalutato, ripeto dialoghi banalissimi, impresentabili comunque dicevo sto completando e lavorando connessione permettendo col mio correttore bozze editor personale Bologna Polar in realtà è già terminato stiamo curando gli impaginati abbiamo revisionato il testo le mie piccole teste e lui mi consegnò solamente 50 dubbi presso a poco sono pochissimi in un testo di 200 pagine circa errori poco diciamo rimarchevoli niente di ragguardevole diciamo da correggere quindi già gli presentai il testo abbastanza ordinato e corretto e ciò si riaggancia al mio proverbiale cercare la perfezione perlomeno nell'arte perché nella vita è impossibile la vita ci si chiude non ci si esprime non si estrinseca quello che abbiamo dentro lo conserviamo oggiosamente lo custodiamo sperando che l'altro possa guardarci secondo un'ottica empatica so che possa apparire antipatico ma nessuno conosce bene il mio passato ripeto 50 dubbi qualche anacoluto cioè frasi contorte forse troppo ridondanti di difficile comprensione di facile immediata fruibilità un po' da aggiustare per rendere più alla portata di tutti Bologna Polar una storia di detection un libro anche goliardico trasgressivo a forti tinte noir mischiata l'Hard Boiled terzo capitolo o prosecuzione ideale di questa saga non di Dune inaugurata con Bologna insanguinata proseguita poi per l'appunto con Bologna Hard Boiled e l'amore ai tempi del covid e non c'è due senza tre per ora una trilogia quasi pronta Bologna Polar Jean-Pierre Cassel padre di Vincent Cassel non confondere con Seymour Cassel Alain Delon Jean-Paul Belmondo Jean-Pierre Melville Le Samurai Ronin Samurai senza padrone John Frankenheim Parigi ovviamente thriller francesi ma anche nordamericani e Moby Dick la baletta bianca chissà forse anche Spielberg Robert Zemeckis che è incastrato Roger Rabbit allora questo si sa è il film che mi ha cambiato la vita forse in peggio perché mi estraneai dal mondo e poi definitivamente me ne allontanai malgrado tentai di normalizzarmi ma non sono portato per essere alla portata di voi uomini del basso popolino io mi elevo sono principesco e voglio rimanere così puro integro intatto davantino cristallino anche luciferino è chiaro? Le luci della notte le luci della città Charlie Chaplin fotografia trasluci di Michael Chapman sceneggiato questo film questo masterpiece dal regista di The Car Counter Paul Schrader ok ma dici a me i colpi inquietanti metallici del tema musicale nella prima sequenza indicano chiaramente o dichiaratamente no chiaramente che questo film è una provocazione una nuvola di vapore acqueo a legge sulla strada saturando lo schermo di bianco come dal nulla un taxi giallo infrange il muro inquietante di vapore e fumo e scivola via a ralenti allora la musica fuori campo si smorza na 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 Herman Alfred Hitchcock la donna che vi seduto viene citato questo film in difficile armonia e il taxi fantasma questo uomo evanescente questo vampiro che sparisce poi spara le sue colpe forse spia e la catarsi la liberazione catartica o la tosse detta dal catarro la raucetina la tetragine il taxi fantasma scompare mentre la nube gli si richiude le spalle sbucano due grandi occhi ripresi in primo piano accompagnati da un morbido tema jazz si muovono qua e là nella luce tremolante dei lampioni colorati sulle strade come se osservassero ciò che li circonda ecco andando avanti poi lui dopo che si è orgasmizzato prova ad approcciare questa qui una bella donna molto molto sexy potrebbe essere la sua Beatrice Beatrice bice di fuoco portinari viene citata in questo mio Bologna Polar lo leggerete se volete io lo leggerò perché realizzerò l'audiolibro di mia voce intonata alle mille più versatili intonazioni e inflessioni vocali non capito un cazzo di quello che dico non mi importa un film assai pregevole inquietante che fa riflettere a fascina sincretico il sincretismo culturale io non amo essere sintetico a volte sono prolisso logorroico ma anche diarreico le scorreggio forte mutevole un rettile sì 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 con questa pelle squamosa e viscida io Ray Lucerto l'amo anche Jim Morrison ha postato i cui colori cambiano come quelli di un camaleonte io sono camaleontico come De Niro un amalgama sintetico degli influssi ecco più contraddittori di tendenze e velità metafisiche elevato a mito comico nervoso isterico ma che posso dire taxi driver di Marti Scorsese è il film patriottico di un senza patria un western ambientato nelle strade canyon infatti Ray Cajer indossa quel cappello cowboy poi hey cowboy di New York un cowboy dell'asfalto cavalca un taxi invece di un cavallo allora io sono un cavallo matto quindi non fatemi arrabbiare ecco le mie imbettive le mie requisitori le mie jacquus io punto il dito contro chi mi addita e soprattutto mi addebita da patenti false mi dà dello sfigato ma io voglio la patente di Totò di quell'episodio lo ietatore da pirandello voi usate delle maschere con cui celate i vostri scheletri nell'armadio io voglio invece scheletrire smagrire voi dovete sbiancare e contro di me non ce la potete fare perché io ho deciso di vivere da principe e quindi vi volete prostituire o volete sfruttare questo sistema a modo di arrabbiare del pappone di magnaccia e corrompervi fatelo io voglio divertirmi indolenzirmi dolermi essere un pensatore un libero viaggiatore in questo mondo spettrale e inabissarmi nell'abissale mare oceanico delle mie emozioni taxi driver è un capolavoro scoprirete qualcosa di veramente profondo in questo libro che sarà anche versivo ridicolo grottesco flamboyante granghignolesco e angelico cattivo diabolico demoniaco saranno citati compianti sul Cristo morto presente la basilica san petronio eccetera eccetera e tante mie memorie la marcord c'è chi non mi ama c'è chi mi odia lo iodio l'acqua la nitidezza il nitore lo splendore la purezza ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti